Da calciatore non posso che fare questa similitudine, pensate a uno sportivo che dal giorno 0 al giorno X di fine campionato riesce a raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di vincere il campionato. Pensate a tutte le rinunce che ha fatto e alla fine raggiunge il suo obiettivo, questo è quello che ti dà una borsa di studio. Cioè la certificazione che durante il percorso di crescita tu sei stato uno studente eccellente. Innanzitutto ha significato ripagare i miei genitori per aver creduto in me, secondo ha avuto un significato più profondo per me stesso. Io ho rinunciato alla mia precedente carriera per venire qua alla LUIS e non sapevo mai se anche questo percorso fosse quello veramente giusto per me. Ed essere stato ripagato con una borsa di studio è proprio la certificazione che il mio cammino è quello giusto. E quindi ho trovato la mia strada e sono stato ripagato per questo. Lui soffre un tipo di formazione che è quella richiesta dalle aziende, cioè completa, rivolta verso l'eccellenza.